Immaginate di dover studiare un certo testo per prepararvi ad una prova d'esame. Ebbene, magari leggete un capitolo, vi rendete conto di aver compreso i concetti principali e a questo punto succede un qualcosa di particolare, perlomeno nella maggior parte di noi. Il fatto che noi abbiamo compreso i concetti ci porterà a credere che noi saremo in grado di ricordarli facilmente e soprattutto di spiegarli in maniera esauriente nel futuro, un giorno dopo, una settimana dopo o magari un mese dopo, quando avremo la prova d'esame. Purtroppo le cose non stanno così, perché il nostro cervello non funziona in questo modo. Si tratta di una vera e propria illusione di sapere, alla base del quale c'è un bias cognitivo, che ci fa credere che la comprensione dei concetti si trasformi automaticamente, quasi magicamente, in una sorta di memorizzazione a lungo termine. Cosa possiamo fare quindi? Salve, io sono Alessandro Zocchi e in questo video parleremo di flashcards, di come costruirle e di come utilizzarle. Noi possiamo provare a noi stessi questa illusione di sapere? Sì, è molto semplice. Alla fine della lettura o comprensione di un testo possiamo provare a metterci nei panni del nostro professore, istruttore, formatore, un possibile datore di lavoro che ci deve fare un colloquio e così via e proviamo a farci delle domande su quei concetti che abbiamo studiato. Siamo veramente in grado di ricordarli? Siamo in grado di spiegarli in maniera corretta? Ricordiamo tutti i dettagli importanti per poter dimostrare che abbiamo effettivamente imparato? Ebbene, gli esperti ci dicono, e possiamo verificarlo con questo semplicissimo esperimento, che spesso noi non ricordiamo in maniera esauriente questi dati, anche solo dopo qualche minuto dalla fine della lettura del testo. Figuriamoci dopo una settimana, se non anche dopo qualche settimana. Questa semplice esperienza quindi ci dimostra che l'illusione di sapere fa parte proprio del funzionamento del nostro cervello. Ora però questa tattica, chiamiamola così, di farci delle domande e di provare a rispondere, possiamo utilizzarla integrandola nella nostra strategia di studio. Infatti gli esperti ci dicono che se noi ci fermiamo frequentemente, ci facciamo delle domande e proviamo a rispondere, quindi ci autotestiamo frequentemente, ci aiuterà moltissimo a capire se abbiamo effettivamente compreso e soprattutto ci aiuterà nel processo di memorizzazione e di richiamo delle informazioni che ci servono. Spesso si fa riferimento a questo approccio proprio in quella tecnica che si chiama delle flashcards. Della tecnica con le flashcards ne abbiamo già parlato diffusamente in altri video su questo canale e brevemente ricordo che si tratta di questa tecnica dove noi utilizziamo dei fogliettini di carta. Da un lato di un fogliettino scriviamo una delle domande di cui parlavamo prima e sul retro del foglietto la risposta. Questo lo facciamo mentre stiamo studiando, quindi alla fine di una sessione di studio possiamo avere una, come dire, una pila di queste flashcards che utilizzeremo per testarci, quindi leggeremo la domanda e proveremo a rispondere. Se la risposta è corretta, verificandola sul retro del fogliettino, metteremo la flashcards da parte. Se non è corretta, la metteremo alla base della prima pila per ripetere la domanda stessa successivamente. Ebbene, gli esperti ci dicono che se noi utilizziamo questa struttura di studio, con questa tecnica delle flashcards, potremo aumentare di molto le probabilità di superare qualsiasi sia la nostra prova. Infatti questa del testing dell'uso delle flashcards è una delle due strategie di studio più efficaci. Qual è l'altra? La seconda più efficace strategia di studio è la cosiddetta pratica distribuita nel tempo. Qualunque sia la nostra strategia di studio, in teoria noi dovremmo praticarla poco ma spesso. Chi studia lo stesso argomento per molte ore al giorno di seguito, in realtà non fa un buon uso delle proprie capacità cognitive. Si potrà anche memorizzare molto, perché alla fine si studia molto, diciamo non è tempo completamente buttato, però gli esperti ci dimostrano che si apprende in maniera molto più efficiente, di più e soprattutto con meno stress, se pianifichiamo bene il nostro studio in maniera da distribuirlo in piccole sessioni, ma distribuita appunto nel tempo e in diversi giorni successivi. I neuroscienziati infatti dimostrano che questo è il modo migliore proprio per andare a potenziare a lungo termine tutte quelle sinapsi, quelle connessioni tra neuroni che si devono formare e che si trovano alla base dell'apprendimento dei nuovi concetti. Ovviamente questo approccio è estremamente efficace se noi lo abbiniamo proprio alla tecnica delle flashcards. Come vi dicevo prima, le flashcards sono nate utilizzando carta e penna, ma chiaramente nel mondo di oggi ci sono numerosissime applicazioni dedicate proprio a questa tecnica. Si parte da un semplice template che è presente su Google Slide che si chiama appunto flashcards, a applicazioni, software più specifici e molto utili, come Quizlet, come Anki, che è storicamente utilizzato in tutto il mondo, oppure anche i Dure Call che io vi consiglio sicuramente di sperimentare. Ho fatto una recensione su quest'ultima applicazione proprio nell'ultimo video. L'utilità di queste applicazioni è che ovviamente, essendo specifiche per la tecnica, ci offrono tutta una serie di funzioni estremamente utili per la costruzione delle flashcards stesse, ma soprattutto hanno al loro interno un algoritmo che monitora i nostri progressi e pianifica quindi la ripetizione delle stesse domande nel tempo, facilitando al meglio il nostro apprendimento. Come possiamo costruire le domande nelle nostre flashcards? Ma innanzitutto dobbiamo considerare che le domande devono essere corte, le più sintetiche possibili, ma contenere tutte le informazioni necessarie per farci rispondere correttamente. Inoltre devono coprire tutti gli aspetti che riteniamo più importanti di quello che dobbiamo studiare, magari affrontando ogni argomento anche da più prospettive diverse in maniera da avere un'analisi più approfondita per ogni concetto. Si potrebbe pensare che con la tecnica delle flashcards noi possiamo solamente farci delle domande riguardo procedure, istruzioni, semplici dati o informazioni, come per esempio in che anno è stata scoperta l'Australia. Ma in realtà non è così, perché noi possiamo creare delle domande, delle flashcards, quindi su praticamente qualsiasi livello del nostro processo di apprendimento, dall'ovviamente ricordo di semplici dati, ma anche fino alla valutazione, l'analisi, le applicazioni, anche persino sulla creazione. Ovviamente con le flashcards non possiamo chiederci di creare qualche cosa, ma sicuramente possiamo chiederci quali sono stati i vari aspetti della creazione, quali sono stati i problemi, come li abbiamo affrontati, oppure quali sono state le dinamiche all'interno del gruppo di lavoro, per esempio. Ovviamente in tutto questo le applicazioni dedicate ci aiutano moltissimo, perché non ci limitano a dover semplicemente scrivere la domanda su un foglietto di carta. Infatti grazie alle applicazioni noi possiamo utilizzare moltissimi materiali diversi. Possiamo aggiungere immagini, grafici da dover interpretare, analizzare, fotografie, file audio, file video, link di ogni genere, formule chimiche, matematiche, ovviamente. Insomma, ci sono moltissimi modi per crearle, così come ci sono vari modi per poter anche rispondere alle domande. In questo modo possiamo creare delle flashcards molto diverse, anche molto creative e divertenti, e sicuramente estremamente efficaci. facciamo qualche esempio. Potremmo essere degli studenti principianti in una prima lezione di lingua inglese e potremmo quindi avere delle flashcards che riguardano la pronuncia delle lettere dell'alfabeto, quindi possiamo utilizzare dei file audio come corrispondenza. Oppure potremmo essere degli studenti della scuola secondaria, magari abbiamo seguito un progetto dove dovevamo creare una cultura idroponica. E quindi le flashcards ci diranno quali sono, sulla base della nostra esperienza, pratica delle linee guida per coltivare le piante in questo modo, oppure un qualcosa addirittura ancora più complesso, delle flashcards che riguardano un corso di neurologia. In una di queste flashcards si potrebbe inserire un'immagine di una risonanza magnetica di un paziente e sulla base dell'osservazione e dell'analisi di queste immagini gli studenti dovrebbero diagnosticare le eventuali compromissioni motorie e o cognitive del paziente corrispondente. Bene, ricapitoliamo brevemente quali sono i punti principali della costruzione e dell'uso delle flashcards. Allora, innanzitutto, quando stiamo studiando possiamo farci un numero più alto possibile di domande e quindi costruire le nostre flashcards. Se pensiamo di aver compreso i concetti principali alla fine della lettura possiamo passare direttamente ad autotestarci con le flashcards. Solamente nel caso in cui ci sono alcuni concetti poco chiari possiamo andare a rileggerli per comprenderli meglio. Se continuiamo a non comprenderli sarà meglio andare a cercare altre fonti perché probabilmente ci mancherà qualche informazione o anche magari nel testo quel particolare concetto non è spiegato bene. Non ci conviene andare a rileggere se riteniamo di aver compreso tutto quanto. La rilettura non è un'elaborazione attiva dell'informazione e quindi ci aiuta poco. Meglio passare direttamente a autotestarci con le flashcards. Di conseguenza andremo a utilizzare la nostra applicazione preferibilmente e seguire semplicemente la pratica distribuita nel tempo che ci suggerisce l'applicazione stessa. Bene, questo è tutto per il video di oggi spero sia stato interessante e soprattutto utile e ci vediamo la prossima volta. A proposito per i più curiosi l'Australia è stata scoperta dal famoso James Cook nel 1770. In realtà lui fu il primo esploratore europeo a sbarcare nella costa orientale dell'Australia ma ben oltre 150 anni prima cioè nel 1606 ci fu un altro esploratore olandese Willem Jansson che sbarcò nella costa occidentale dell'Australia. Ovviamente l'Australia era già abitata da decine di migliaia di anni dagli australiani indigeni.